ciao a tutti io mi chiamo Cesare Bocci tanti mi conoscono per il lavoro che faccio in televisione però prima di essere attore io sono geologo sono stato e sono ancora geologo ho studiato all'università di camerino e per questo che oggi vi voglio parlare di un nuovo corso che l'università a camerino si è inventato è un corso di scienze geologiche e tecnologie per l'ambiente che cos'è il geologo se volete intraprendere questa professione sappiate che è una cosa straordinaria quello che fa è una figura professionale che può parlare di sostenibilità dell'ambiente di salvaguardia del territorio dell'utilizzo intelligente oculato attento delle risorse che madre terra si mette a disposizione cioè l'acqua minerali tutte le risorse che di cui noi abbiamo bisogno ma può parlare anche delle nuove energie la ricerca delle nuove energie la geotermia cioè il calore che ci può donare la terra così gratuitamente oppure della della forza del mare l'energia del mare e ancora il geologo ha un ruolo fondamentale nella protezione e nella prevenzione da rischi naturali calastrofi naturali tipo i terremoti le frane le alluvioni come dobbiamo curarlo questo pianeta per continuare a viverci in sicurezza bene questo il geologo lo sa lo studia e questo corso è proprio mirato su questo genere di formazione e poi voglio dire noi ne abbiamo uno di pianeta per questo dobbiamo assolutamente accettare la sfida del futuro cioè mantenerlo a nostra disposizione essere in equilibrio con la natura e con il nostro pianeta perché se no veramente stiamo creando troppi danni il geologo li può curare li può prevenire e poi se andate a camerino a studiare io l'ho fatto troverete un rapporto con con i professori uno a uno praticamente ci sono e poi c'è un ambiente internazionale da tutto il mondo vengono a studiare poi camerino è immerso in montagne in valli che sono un laboratorio a cielo aperto perciò potrete mettere in pratica immediatamente quello che avete imparato a lezione e poi è un bell'ambiente dove ci si conosce tutti e si sta molto bene io ci ho passato forse gli anni più belli della mia vita vi consiglio di farlo andate a camerino all'università di camerino laureatevi in scienze geologiche e tecnologie dell'ambiente